E fine febbraio, quando per la prima volta in Irpinia si parla di Covid, un giovane di Montefusco rientra in paese da Codogno e nel piccolo comune in provincia di Avellino scatta l'allarme. Il sindaco predispone per il 27enne di suoi familiari la quarantena. Nello stesso giorno, il 23 febbraio, tornano da Codogno anche due fratelli di Lauro ed un giovane di Taurano. Anche in questi comuni è panico. In quarantena finiscono 22 persone residenti nei due centri nel comune di Moschiano, dove vive la fidanzata del giovane di Taurano. Nessuna di queste persone presenta sintomi legati al coronavirus. Passano 13 giorni e il 7 marzo il Covid arriva davvero in Irpinia. È una donna, 59enne di Ariano Irpino, la prima positiva al virus. Da questo momento è l'inferno anche in Irpinia, dove fino ad agosto si arrivano a contare 608 contagiati. Il Covid si diffonde soprattutto ad Ariano e la popolazione vive anche la terribile esperienza della zona rossa. La cittadina del Tricolle piangerà anche la prima vittima del coronavirus. È un uomo di 66 anni. La triste conta dei morti in Irpinia nella prima fase comincia il 13 marzo e termina il 25 agosto, con un totale di 57 decessi. La pausa è relativa ed anche molto breve. A settembre infatti riprendono i contagi. Il virus si diffonde rapidamente in tutta l'Irpinia. Solo due comuni restano Covid-free, Cairano e Petruro. I comuni con il maggior numero di contagiati sono Avellino, Avella, Cervinara, Grotta Minarda, Mirabella, Montoro e Volturara. In quest'ultimo comune, dove si contavano zero contagiati, scoppia anche il caso della RSA, Villa Clementina. Il primo decesso per coronavirus della seconda fase si registra l'8 ottobre ed è un 71enne di Mirabella e Clano. Il Covid non si ferma. Si riaprono le porte del Covid Hospital per l'aumento dei ricoveri e soprattutto non si arrestano i decessi. Il coronavirus ha portato via anche Chiara, una ragazzina di soli 17 anni di Avella, Giuseppe, Polizzotto, 41enne di Candida e Massimo, 54enne, fotografa vellinese. Sono loro le vittime Covid più giovani in Irpinia. A fine anno sono oltre 8.000 i contagiati e più di 200 i morti, numeri impressionanti che rendono l'idea di ciò che stiamo vivendo da ben nove mesi. Da pochi giorni è arrivato il vaccino, i cui benefici però non saranno immediati. La fine di quest'incubo è ancora lontana. Mo' ha da passare nottata.